Abbiamo apprezzato l'attenzione che la Prefettura e il Comune, assieme alle Forze dell'Ordine, hanno riservato ai giardini del Porcenai. È stata l'occasione per aggiornarsi attorno al tema della sicurezza e per ribadire la necessità di continuare sul percorso avviato per riqualificare e valorizzare l'area. Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti escono così soddisfatte dall'incontro in Prefettura sul tema della sicurezza cittadina e sul decoro. Un incontro richiesto dalle stesse associazioni dopo le azioni messe in campo nelle scorse settimane per arginare il problema sicurezza nella zona dei giardini Porcenai, dove ultimamente è arrivata anche la vigilanza privata. C'è la volontà da parte di tutti di alzare la percezione di sicurezza e decoro, proseguono Valeria Albisi e Catiuscia Fei, rispettivamente direttrice di Confesercenti Arezzo e direttrice aggiunta di Confcommercio Firenze Arezzo. Le azioni messe in campo sino ad oggi, seppur non risolutive, sono comunque importanti e significative ed hanno riscontrato i primi apparezzamenti tra i commercianti. L'incontro poi è servito anche ad affrontare il tema della sicurezza legato alla movida che riguarda altre piazze cittadine e che richiede un impegno in termini di controllo e prevenzione. Siamo disponibili come associazioni, concludono Confesercenti e Confcommercio, a fare la nostra parte e abbiamo dato la nostra disponibilità a siglare un protocollo per sensibilizzare gli associati a collaborare, per evitare che durante il periodo estivo, ma non solo, possano ripetersi episodi come quello accaduto lo scorso weekend in piazza della Badia. Grazie.